Benvenuti in questo secondo video sul Brave Browser, sono ancora Mike Zillo di Amica Borsa e voglio farvi vedere come attivare le ricompense, quindi le Brave Rewards, anche sul vostro browser Brave. Le ricompense vengono pagate appunto, come detto nel video precedente, in BAT token. Allora, intanto quando andrete sul sito di Amica Borsa, vedrete subito che utilizzando il browser Brave avrete queste due iconcine che probabilmente sono abbastanza nuove per voi. Allora, questa con il simbolo del leoncino, che è di fatto il simbolo appunto di Brave, se l'aprite vedete che Shields up for this site vuol dire che gli scudi sono attivi per questo sito. In totale su Amica Borsa ci sono solo due annunci pubblicitari bloccati e vedete poi che ci sono tante altre opzioni con cui potete personalizzare la vostra navigazione. A destra vedrete le Brave Rewards. Brave Rewards is off. Le ho spente apposta per farvi vedere come si fa. Ti da, in inglese vi sta semplicemente comunicando che non stiamo, in questo momento non sto accumulando Brave Rewards perché ho disattivato le Brave Rewards appunto a titolo dimostrativo. Quindi clicchiamo sul bottone, sul link settings, si aprirà una nuova scheda. Brave Rewards off. Vedete che nel mio wallet ho già maturato in un mese di navigazione 30 BAT. Di fatto c'è un po' il trucco e adesso lo andremo a vedere. Prima di tutto riattivo le Brave Rewards. On. Vedete che la pagina è sensibilmente cambiata. E vedete che ho già fatto un'offerta di 10 BAT. Corrispondente circa 1,92 BAT. Ovviamente questa offerta l'ho fatta a Amica Borsa. Autocontribute io lo tengo su off perché Autocontribute va in automatico a pagare i siti su cui spendete la maggior parte di attenzione. Quindi su cui spendete la maggior parte del vostro tempo di navigazione. Tenerla accesa, ve lo dico onestamente, è abbastanza pericoloso perché tantissimi siti non sono registrati su Brave. Quindi di fatto è un po' inutile tenere l'autocontribute, quindi la contribuzione automatica accesa, attivata. Perché vi trovereste magari a sprecare anche dei token. Ecco perché io l'ho disattivata per dare i miei token a chi scelgo. Infatti vedete che qualche giorno fa, il 17 marzo, ho fatto il primo versamento di test su Amica Borsa e vedete che i 10 BAT è stata correttamente registrata. Adesso torniamo su Amica Borsa. Questo articolo in cui parlavo appunto del primo video, allegando il primo video di Brave. Se clicco di nuovo qua posso fare send a tip. Send a tip letteralmente vuol dire invia l'offerta. Tip amount posso scegliere, ovviamente mi comunica che come abbiamo visto prima il mio balance, il mio equivalente di BAT token è di 30. Io seleziono 10, invio il mio tip. Grazie, ho appena inviato un tip ad Amica Borsa. Ora finché ci sono invio anche gli altri, visto che comunque non posso prelevarli questi BAT token e anzi hanno 90 giorni di tempo di scadenza. Quindi non è che vengono eliminati, però se non li utilizzo tornano alla casa base. Piuttosto che tornino alla casa base preferisco che vadano nelle casse di Amica Borsa per sostenere appunto le iniziative editoriali che stiamo coltivando con Amica Borsa. Invio un'altra offerta e infine vedete che il conto si sta aggiornando, invio anche l'ultima offerta di 10 BAT. Inviato. Adesso se vado sul Rewards Settings vedrò che il mio wallet è di 0 BAT e le 4 donazioni, le altre 3 donazioni sono già state registrate. Quindi io questo mese sono riuscito a donare 7.65 dollari ad Amica Borsa. Quindi penso che sia una cosa abbastanza produttiva sia per Amica Borsa, per sostenere comunque tutte le iniziative editoriali e le spese che la casa editrice ha, per far fronte comunque alle nostre attività che stiamo promuovendo, ma anche un modo per premiare i pubblicatori, i publisher verificati che di fatto fanno veramente un grande lavoro per condividere gratuitamente tanta informazione come giornalmente facciamo noi di Amica Borsa in tanti settori di business diversi. Per questo video e per il Brave Browser è tutto. Se vi è piaciuto questo video, se vi piace l'idea del Brave Browser, cliccate un bel like sul video e ovviamente ci vediamo all'interno del Crypto Heavy Club. Buona giornata e buona Brave Navigazione a tutti.